L'Ispettorato del Lavoro di Bari ha notificato ufficialmente ai tre medici del Policlinico, multati per i troppi straordinari del personale e i mancati riposi durante l'emergenza Covid, l'annullamento delle sanzioni da 37.000 euro. Nel provvedimento si legge il motivo della cancellazione delle multe, l'articolo 4 della legge 689 del 1981, che stabilisce che non risponde alle violazioni amministrative che ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, ovvero in stato di necessità o di legittima difesa. Quindi l'Ispettorato territoriale del Lavoro di Bari ha ritenuto che nelle fattispecie in esame si configuri l'esclusione della responsabilità per le violazioni amministrative dei trasgressori, venendo in rilievo l'esimente dello stato di necessità, stante il notorio stato emergenziale da Covid-19 nei periodi oggetto di contestazione, si legge. Di conseguenza è stato disposto l'annullamento dei verbali di accertamento. Alla cancellazione delle multe si è arrivati, dopo l'interessamento del capo dello Stato, Sergio Mattarella, al quale si era rivolto uno dei tre medici multati, il primario del pronto soccorso del Policlinico Barese, Vito Procacci.